L'obiettivo è quello di maturare l'integrazione tra il mondo delle start-up, soprattutto le start-up più avanzate, le scale-up, e il mondo della media impresa, che non è solo delle grandi corporate, ma anche quello delle medie imprese, di cui soprattutto l'Italia ha una grande rappresentanza. Oggi, come parte anche dell'evoluzione dell'attività dello scorso anno, è uno dei temi anche quello di verificare cosa sono stati gli avanzamenti pratici, e quindi quali sono stati anche gli incroci, i deal che sono avvenuti nel frattempo in questo anno di attività. E poi rilancerete con altri appuntamenti su scala europea? Su scala mondiale, in realtà, il tema degli scale-up summit è una piattaforma che stiamo sfruttando da almeno un anno, con l'idea di avere un'integrazione sia geografica tra il mondo delle corporate e quella delle start-up, che dei verticali diversi su cui l'attività poi viene svolta. Per cui, almeno ogni trimestre, ogni quarter, abbiamo un appuntamento ospitato di solito dalle borse. Quindi in Europa quest'anno iniziamo dall'Italia, ci sarà l'Inghilterra, ci sarà la Germania, e poi saremo in Israele e negli Stati Uniti a San Francisco.